Scusi eh! Non so, vai! Faccio il meglio? Ah, bene! Scusa, dove escono le macchine? Non si seguivano. Il problema è la deviazione è a 450 metri giù poi fanno un giro il parcheggio è qui a sinistra in pratica però aspetta potrebbero arrivare anche da lì che è più semplice è un macello è un macello perchè anche io devo fare il controllo Possiamo provare a vedere qui in piazza se fumerò Grazie! Di niente, di niente!